Ciao ragazzi, bentornati di nuovo sul mio canale. Sono di nuovo qui, è da un po' che sono mancata, però sapete, con le vacanze di Natale e tutto, poi sono partita, non ho avuto veramente i mezzi per filmare qualcosa e poi mi sono presa comunque una piccola vacanza, anche se sono rimasta sempre attiva su Instagram e così. Oggi, anche se molto in ritardo, vi mostro quello che ho ricevuto per Natale, quindi tutte le mie piccole cosine. Sono molto felice di mostrarvele perché, anche se in ritardo, non ero convinta di farvi questo video perché appunto sapevo di farvelo tardi. Però dopo ho pensato che comunque mi faceva piacere condividere con voi ciò che avevo ricevuto, soprattutto per darvi un parere al riguardo perché nel frattempo ho anche provato le cose, quindi mi sembrava utile e anche per chi è interessante, per chi è un po' curiosone, ecco. Quindi, niente ragazzi, come state? Mi siete mancate tantissimo e spero che queste vacanze siano andate benissimo e che la ripresa della routine sia andata pure altrettanto bene. Quindi, niente, vi invito a vedere il video, vi ricordo di iscrivervi su tutti gli altri social che vi metterò qui in basso. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale se non lo avete già fatto e, niente, vi lascio a vedere al video. Allora, diciamo che quest'anno ho ricevuto la maggior parte delle cose, sono tutte a make-up. Quindi, col fatto che tanto ho iniziato l'accademia e quindi ho, diciamo, preferito conciliare il Natale, quindi regali di Natale, con ciò che alla fine veramente mi serviva. Perciò vedrete maggior parte beauty e make-up. Quindi, iniziamo subito con... Mi sono anche fatta un autoregalo dalla MAC, non avevo mai comprato prodotti MAC, mai utilizzati se non in accademia, e quindi vi faccio vedere quello che ho comprato io. Allora, ho comprato un fondotinta, il Face & Body, questo qui, tonalità N2. Ho preso la mia tonalità per ora per vedere un po' com'è. Visto che mi sono trovata davvero benissimo, è quello che ho indosso oggi, l'ho già utilizzato e la resa è davvero ottima. Dura tantissimo, in più non si sposta perché ha la pelle grassa, è davvero ottimo perché a fine giornata, se vi lucidate, è leggermente sulla fronte, ma non vi sentite che avete qualcosa di troppo, diciamo. Non so se avete questa sensazione, io ho sempre questa sensazione. E questo è davvero ottimo per questo. Quindi ve lo rifaccio vedere, il Face & Body, l'N2 per la mia tonalità di carnagione. È davvero, davvero ottimo, ve lo straconsiglio, sicuramente lo ricompererò per completare il mio beauty, per quando lavorerò. Questo senz'altro. Dopodiché, altro prodotto della MAC, è questo qui. È una base per gli occhi. Adesso vi tiro fuori il tubino. È un tubino così. E in pratica serve un po' da primer per gli occhi, perché magari... L'ho comprato per provare, forse io non ne ho proprio gran bisogno, ma per chi ha, magari, quella palpebra che tende a toccarsi con la palpebra mobile, io ve lo raccomando, perché almeno così non vi... È ottimo per non farvi spostare l'ombretto, appunto, perché ha quella palpebra che si toccano l'una tra l'altra, dopo un tot di ore vi si sposta, vi si scioglie, vi rimane delle macchie. Con questo primer, questa brutta cosa non dovrebbe succedervi. Quindi, anche questo ve lo consiglio, perché tanto la MAC come prodotti di base, primer, quant'altro, è buona. Perciò, ecco, questo è un prodottino molto utile per chi ha questo problema. Dopodiché, l'altro prodotto della MAC, è questo classico che si vede e stravede sui video e tutorial di Instagram e YouTube, è questo qui. Io lo chiamo lo spruzzino, molto vulgarmente, ma è il fix, quello che serve per fissare e anche per rinfrescare. Fissa tantissimo, ragazzi, non si sposta niente, davvero. Non vi lascio quella sensazione che magari la pelle vi tira. Per niente, forse leggermente un attimo quando si asciuga, ma poi non sentite più niente. Ha un odore molto piacevole, non è troppo forte, è un odore che può piacere a tutti. Io adesso sono usciti altre profumazioni come cocco, rosa e un'altra cosa che non mi ricordo. Però io ho preso il classico perché, siccome lo dovrò usare anche su altre persone quando le truccherò, mi sembrava più normale, ecco, comprare una profumazione più neutra, ecco. E questo è davvero ottimo, ve lo consiglio, ragazze, 18 euro per 100 ml di prodotto. Fantastico, veramente. Se avete quel tipo di pelle che dopo tot ore il fondotinta non regge, o comunque dovete affrontare una lunga giornata e dovete avere un trucco veramente top tutte le ore, questo prodotto ve lo consiglio, ve lo raccomando, utilizzatelo. Magari anche sotto con un primer già prima del fondo. Così il risultato sarà veramente eccellente. Quindi questi tre sono stati i miei autoregali della MAC, che sono davvero molto soddisfatta di quello che ho comprato. Dopodiché passiamo a quello che ho ricevuto, rimanendo sempre in tema make-up. Il pezzo forte, diciamo, che era quello che desideravo davvero tantissimo, da tanto, è il fondo di Dior. Io ho preso il Forever perché appunto ho la pelle grassa, quindi questo era quello consigliato per la mia tipologia di pelle. è ottimo, ha un leggero profumo di fiori, a me sembra. E davvero la consistenza è da favola, si stende benissimo sia col pennello che con la spugnetta, non è né troppo liquido né troppo denso, davvero ha una consistenza perfetta. e regge tantissimo. Ha veramente un colorito bello, perché non sembra che portate qualcosa, ma vi uniforma l'incarnato, vi uniforma il viso. Veramente è assurdo. Costicchia, perché ovviamente questo rientra tra i prodotti di lusso, ma ogni tanto si può comprare. Io ho preso la tonalità 20, sto sempre lì un intermedio, non è il primo chiaro, ma diciamo dovrebbe essere il secondo o il terzo, di solito io prendo queste tonalità qui. E veramente non fa né l'effetto bambolina, né l'effetto plastica, cioè è un effetto veramente naturale, ma bello, bello, bello. E quindi questo è il mio gioiellino. Sono veramente troppo felice. Se volete un tutorial dove utilizzo questo, o solo i prodotti della MAC, scrivetemi sotto nei commenti, mi raccomando, che così io ne terrò conto e ve lo farò più presto comunque. Dopodiché, altro pezzo di lusso che ho ricevuto, considerato appunto nel lusso, è una cosina di Chanel. Sempre make-up. Adesso ve la faccio vedere. È una novità che è uscita per Natale, suppongo, comunque è una novità invernale. Poi è bello, perché comunque Chanel cura veramente tutto nei dettagli, dalla scatolina, al stuccino. Vedete? È oro, quindi dovrebbe essere stato per Natale. Scusate le unghie, ma... Lasciamo perdere, facciamo finta che voi non avete visto niente. Adesso vi faccio vedere la colorazione. È una colorazione molto particolare, una nuova colorazione. Mi piace tantissimo, davvero. È questo colore qui. È un grigio verde. Non si sa bene che effetto fa, perché con la luce cambia un po'. Ma è veramente bello, sembra quasi un piombo, un... non so, riuscite a vederlo. È il numero... è il 38 e si chiama Titan Metallic. Quindi è un colore comunque metallico, è davvero bello. Fa veramente un effetto molto carino, perché può servire sia per illuminare la vostra palpebra, quindi creare punti luce sull'occhio, ma anche può essere utilizzato come illuminante. Fa davvero un affetto bello, ovviamente non sulle carnagioni scure, ma sulle carnagioni chiare, come la mia, più cara della mia, o forse uno o due toni più scurette della mia, ma non troppo, perché essendo un colore freddo, essendo un colore molto chiaro, si vede sulle pelli scure. Perciò ve lo raccomando, perché è palliduccia come... bello, bello, bello. Vi farò un trucco con questo senz'altro, comunque se volete cose specifiche, chiedetemi sotto, io risponderò, cercherò di accontentarvi come sempre, anche se questo periodo sono mancata un po', ma comunque cerco sempre di accontentarvi come meglio posso. dopo di che, ho ricevuto dalla Kiko invece, questo rossetto, adesso vi faccio vedere la colorazione, vedete, è un scuro bordeaux, tipo un po' le colorazioni che sono uscite per le feste di Natale, è il numero 2, anche questo è tutto un 2. Vedete, è molto bello, davvero bello, si secca alle labbra, quindi è una di quelle tinte, secca moltissimo, ve lo voglio sottolineare, secca davvero tanto, è bello come colore, è proprio bello, figo, però secca tantissimo, quindi bisogna preparare, secondo me, in questo periodo invernale, che fa molto freddo, bisogna preparare le labbra, prima di applicare quello, perché davvero asciuga tantissimo, quindi se voi preparate bene le labbra, non ci sarebbe nessun problema. Dopodiché da Kiko, un'altra cosa molto utile che ho ricevuto, il packaging è davvero carinissimo, molto candy, oggi mi ci dice tanto, ed è questo, ve lo tiro proprio fuori, così lo vedete, è questo attrezzino in silicone, per pulire i pennelli, che ha questa ventosa dietro, in pratica voi l'appiccicate al lavandino, dentro proprio il lavandino, così scorre l'acqua, e voi con i pennelli, li pulite qua sopra, è davvero ottimo, l'ho già usato, pulisce benissimo, non rovina i pennelli per niente, ovvio, la delicatezza è sempre molto importante con i pennelli, ma comunque non li rovina, è ottimo per pulirli, tanto ormai tutte abbiamo tantissimi pennelli, i pennelli erano puliti, almeno una volta a settimana, questo è sicuro. Dopodiché, altro prodotto make-up, probabilmente l'ultimo, è questa palette, che desideravo veramente tantissimo, ed è l'after party di Primark, è veramente bella, mi piaceva sia per il packaging, che è molto sirenetta, non so, mi piace proprio tanto, curano, per il costo, curano veramente moltissimo i dettagli, ha delle colorazioni bellissime, adesso le scopriamo insieme, è un po' sui toni freddi, come appunto è il packaging, però è bello proprio, cerco di levar, beh, non sono riuscita a levare la pellicola, però vedete queste colorazioni qui, acqua marina, blu, viola, argento, lilla, un po' di nero, sono veramente belli, e poi vedete questo effetto, molto bello, e questa è l'after party, vi farò un trucco, probabilmente, per carnevale, cercherò di proporvi un trucco, abbastanza, portabile tutti i giorni, anche oltre a quello di carnevale, in modo da farvi vedere, come si possono utilizzare questi colori, ma non essere troppo, che forse, non si può portare tutti i giorni, anche se, chi se ne frega, voi uscite come mi sentite bene, della gente, poco ci importa, perché tanto comunque, ci criticheranno sempre, ricordatevelo ragazzi, quindi positive, voi uscite come meglio credete, perché siete bellissime, come vi sentite voi, dentro belle, quindi, assolutamente, quindi questa è la palettina, poi ho ricevuto due cover, una è questa qui, sempre da Primark, e l'altra è quella che sto utilizzando, forse l'avrete vista nelle stories di Instagram, comunque, con i brillantini dorata, con scritto, female is the future, e questa è l'altra, oro e marmo, perché chi mi conosce, sa che io adoro il marmo, all'unissima potenza, cioè io farei tutto marmo, veramente tutto, ma comunque, non posso, quindi questa è la cover, molto bella, dopodiché ho ricevuto, una spilla, bella, 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 fatta a mano, da una ditta, che mi piace tantissimo, che fa cose per i bambini, e, io l'ho già attaccata alla sciarpa, comunque ve la faccio vedere così, e è questa spilla qui, a forma di pony, bellissima, ha la campanellina, e è fatta veramente tutta a mano, proprio bella, la marca questa qui è Rorò, cercherò di trovarvi il sito internet, e ve lo metto nella bio, quindi, se volete andare a curiosare, fare dei regalini per bambini, bambine o bambini, senza problemi, trovate davvero delle cose, fantastiche, davvero fantastiche, spiziose, carine, ci sono cose carine, anche per noi adulti, però, veramente bello, 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 e questa è la stellina, poi l'ultima cosa che ho ricevuto, è un maglione di H&M, ed è questo qui, Get Off My Back, lo volevo tantissimo, perché avevo visto tantissimi post su Instagram, e mi piaceva davvero la maglia, e il significato della frase, e quindi, me l'hanno regalata, quindi, sogno esaudito, desiderio esaudito, ed eccola qui, è molto calda, questo è davanti, semplicissimo, niente di che, e dietro c'è la scritta, caldissima, c'è una taglia gigante, ho trovato solo la XL, ma non importa, perché l'effetto oversize, è davvero bellissimo, fa proprio figo figo, e niente ragazzi, questi sono stati i miei regalini di Natale, spero che vi siano piaciuti, se appunto volete dei make up tutorial, con soltanto i prodottini della MAC, oppure con la palette della Primark, l'after party, oppure dove volete proprio, un video su questo prodottino qui, non preoccupatevi, iscrivetevi nell'info box, io cercherò di rispondervi, e di accontentarvi senz'altro, e quindi niente ragazzi, iscrivetevi al mio canale, se non lo avete già fatto, comparirà la mia testolina qui, cliccateci sopra, attivate la campanellina, e il gioco è fatto, è gratis, senza impegno, e mi farete molto felice, quindi ci vediamo a un prossimo video, e niente, ciao ragazzi, a presto, ciao, ah, dimenticavo, questo è il nuovissimo maglione, che ha realizzato mamma, a Ferri, ed è fantastico, non trovate anche voi, io lo adoro, poi il colore è, ciao, ciao,